Affidati a dei professionisti del settore, metti al sicuro le tue spedizioni. Per alcune difficoltà tecniche legate alla diversa strumentazione necessaria per il concerto di Sentieri, la cui sistemazione sul palco avrebbe comportato un'attesa troppo lunga al termine dello spettacolo di Avitabile, si è deciso di spostare il concerto di Marco Sentieri alle ore 22 e 30 del 6 gennaio. L'assessore al commercio Giovanni Del Vecchio intravede in questa circostanza un'opportunità per sperimentare una formula di prolungamento degli spettacoli della Notte Bianca su due diverse giornate, formula che potrebbe anche essere riproposta in futuro, soprattutto se sarà possibile l'apertura dei negozi anche nella tarda serata del 6 gennaio. Non bisogna dimenticare, precisa Del Vecchio, che l'iniziativa della Notte Bianca è nata per sostenere il commercio cavese e tale deve restare la sua principale finalità, al di là delle occasioni che crea per assistere a spettacoli musicali di qualità.